L'attuale dotazione di posti terapia intensiva in Abruzzo è di 119, ottenuta aggiungendo 25 posti e non 7 di nuova realizzazione. Altri 51 sono stati programmati per raggiungere a breve l'obiettivo posto dal decreto rilancio. Per attuare il piano il presidente Marsiglio, nominato l'8 ottobre scorso commissario per l'emergenza Covid, ha affidato tempestivamente le progettazioni e in alcuni interventi sono in corso anche le procedure di appalto dei lavori. A precisarlo è lo stesso presidente Marsiglio dopo una ricerca pubblicata su un'autorevole testata giornalistica che aveva nei giorni scorsi rappresentato la situazione delle terapie intensive in Abruzzo come al Collasso, una ricerca che partiva dall'assunto che fossero stati creati solo 7 nuovi posti di terapia intensiva dopo l'emergenza Covid e che i 10-11 posti allora occupati producevano un tasso di occupazione del 150% rispetto ai nuovi posti, un dato che, letto superficialmente, portava molti commentatori a dichiarare saturi i posti di terapia intensiva in Abruzzo, mentre ce n'erano almeno altri 90 disponibili.